Le 95 tesi, uno degli spettacoli, il secondo per l'esattezza, che vede protagonista Martín Lutero. Io stasera incontro Antonio Piccolo e Giuseppe Cerrone, regia e interprete di questo secondo spettacolo che vedrà il teatro alla deriva qui alle stufe di Nerone. Iniziamo con te Antonio. Regia fatta insieme a Cerrone, però sei tu in scena. Sì, io interpreto il personaggio di Lutero. Il sottotitolo dello spettacolo è Una storia di Lutero ed è indicativo il fatto che si chiami Una storia di Lutero e non la storia di Lutero. L'idea è stata quella di attraversare questa storia senza avere la pretesa che fosse una reale, completa rappresentazione storica e nemmeno teologica di questo personaggio, ma la fascinazione che ha esercitato su di noi è stata in quanto personaggio di rottura contro l'universo allora conosciuto e quindi questo è il collegamento con la contemporaneità. Un grande contestatore e contrastatore per me Martino Lutero. L'avete messo a nudo. Perché scegliere, lo chiedo proprio a te Giuseppe Cerrone, di mostrare un Martino Lutero molto umanizzato, cioè molto vulnerabile? Come tutti i riformatori religiosi, quest'uomo è dovuto passare attraverso i mani sofferenze. Quindi pensavamo che fosse proprio il personaggio ideale per mostrare un uomo spesso anche addolorato, problematico. La sofferenza indubbiamente gli ha permesso di fare delle cose che probabilmente un uomo più privilegiato non avrebbe fatto. È passato attraverso il dolore e si è formato nella sofferenza, nella lotta eccetera eccetera. Ha incominciato a capire che probabilmente certi metodi non andavano più bene e bisognava riformare tutto da capo a piedi. Ci è riuscito, ha avuto con sé anche tanta fortuna, però ci ha creduto e probabilmente con Lutero inizia la modernità. Perché comincia un altro approccio nei confronti della religione, nella preghiera. Cambia il modo stesso di pregare, non c'è più ascesi ma c'è comunione con gli altri e con una nazione intera. Tu l'hai interpretato. Secondo te questo Lutero qui andrebbe d'accordo con il nostro Papa? Con questo Papa? Non lo so perché devo dirti, come ho già detto prima, l'aspetto teologico tutto sommato forse è quello che ignoriamo di più. Io e Giuseppe, nel senso anche rispetto a questa messa in scena, specifico anche che non è un'apologia di Lutero, anzi, durante lo spettacolo c'è anche un ribaltone, in un certo senso, questa è la cosa interessante. No, però voglio dire che non è uno spettacolo che dà risposte ma si limita a fare delle domande ed è molto contemporaneo, i costumi non sono storicizzati, la figura del Papa che è presente in scena e l'unico altro personaggio storico, reale, oltre a Lutero, nel nostro spettacolo è anche molto comico, decisamente non inquadrabile in quell'epoca, quindi non lo so. Quindi direi che dovranno irla vedere? Questo sempre. Allora Antonio c'è qualche altra cosa che bolle? Io dico sempre il calderone perché chi fa regia, chi fa l'interprete c'è sempre qualcosa conservato. Come Teatro in Fabula, che è il collettivo di cui facciamo parte, insieme a Raffaele Osiello, Stefano Ferraro e Agnello Mallardo, abbiamo tanti progetti nel cassetto. Tutto sta a capire di questi progetti quale si avvicina di più alla esigenza veramente del giorno, di quel momento, del presente. Quindi teniamo tante cose, però quando l'urgenza sarà intollerabile, vedranno la luce. Ok, grazie e buon lavoro. Grazie. Grazie a te.